Quasi certamente si tratta di omicidio. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto in tarda mattinata a pochi chilometri da Bitonto nel Barese. Con ogni probabilità si tratterebbe di una prostituta dell'Est. Il cadavere è stato rinvenuto sulla strada provinciale 231, la ex statale 98, in direzione Modugno, sotto un albero quasi completamente nuda nei pressi del deposito di arredamenti sciva. Sul corpo della donna sono presenti numerose ferite, in particolare al collo e ad un fianco. Non si esclude possa trattarsi di ferite di arma da fuoco. Ad intervenire gli agenti del commissariato di Bitonto, allertati da una telefonata anonima che segnalava la presenza di un cadavere per strada. In queste ore i poliziotti stanno cercando di risalire le cause del decesso della donna. Accanto al suo corpo gli agenti hanno rinvenuto una borsetta contenente denaro contante. Sul posto è al lavoro la scientifica, oltre al magistrato di turno. Non si esclude che la donna possa essere stata uccisa al termine di una prestazione sessuale.